Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Coffee Break Italian To Go! La domanda di oggi è Per te è importante studiare le lingue straniere? O formale, per lei è importante studiare le lingue straniere? Lo ripeto, per te è importante studiare le lingue straniere? O formale, per lei è importante studiare le lingue straniere? Per me ovviamente è importantissimo studiare le lingue straniere, ma ascoltiamo le risposte della gente. Molto importante, perché ti permette di conoscere altre culture, anche come il viaggiare. Sì, perché comunque se vai in giro poi bisogna saperle, perché per esempio l'inglese è una lingua fondamentale per parlare con gli altri e comunicare. Sì, penso che sia molto importante studiare le lingue straniere perché ti permette di relazionarti con le persone al di fuori del tuo piccolo contesto, che sia il paese, città, luogo di lavoro. Molto importante. Sì, è molto importante studiare le lingue straniere perché ti permette appunto di conoscere e capire meglio la popolazione con cui vai a contatto. Sì, assolutamente, più che studiare sarebbe più importante andare a usare la lingua straniera, quindi andare a parlarla nei paesi stranieri perché altrimenti non riesci a impararla bene, non riesci a parlarla. Sì, certo, per le nuove culture, per ampliare la mente a nuovi pensieri. Certo, penso che sia assolutamente importante perché consente, anche tramite i viaggi, poter interagire con le altre persone e comunque anche per il fatto della cultura perché è meglio, secondo me, sapere molte lingue diverse, perché consente la comunicazione con molte più persone. Sì, penso che sia molto importante anche perché riesci a capire le sfaccettature diverse e poi capisci anche, secondo me, da quello anche la cultura. Assolutamente sì, sicuramente importante anche perché senza le lingue straniere non si può viaggiare, non si può stare con gli altri di altre nazioni e comunque sei vincolato nel mondo del lavoro. Anche se a me l'inglese non piace. Sì, perché comunque così quando vai in un nuovo posto ti senti a tuo agio piuttosto che io, ad esempio, so l'italiano, lo spagnolo e l'inglese. Li sto studiando tutti e tre e devo dire che quando mi capita di andare in Inghilterra o fare qualche viaggio mi sento molto a mio agio. Sì, penso sia importante sapere lingue straniere anche solo per scopo lavorativo in quanto al giorno d'oggi molti lavori si possono fare solo se si conoscono più lingue ma anche per conoscere nuovi posti, nuove culture, entrare in contatto con persone nuove e crearsi nuovi amici, penso sia la cosa giusta da fare. Che interessante, vero? E ora vediamo tutte le risposte con i sottotitoli. Molto importante perché ti permette di conoscere altre culture, anche come il viaggiare. Sì, perché comunque se vai in giro poi bisogna saperle perché per esempio l'inglese è una lingua fondamentale per parlare con gli altri e comunicare. Sì, penso che sia molto importante studiare lingue straniere perché ti permette di relazionarti con le persone al di fuori del tuo piccolo contesto, che sia il paese, città, luogo di lavoro. Molto importante. Sì, è molto importante studiare le lingue straniere perché ti permette appunto di conoscere e capire meglio la popolazione con cui vai a contatto. Sì, assolutamente. Più che studiare sarebbe più importante andare a, diciamo, a usare la lingua straniera. Quindi andare a parlarla nei paesi stranieri perché altrimenti non riesci a impararla bene, non riesci a parlarla. Sì, certo, per le nuove culture, per ampliare la mente a nuovi pensieri. Certo, penso che sia assolutamente importante perché consente, vabbè, anche tramite i viaggi, poter interagire con le altre persone e comunque anche per il fatto della cultura perché è meglio, secondo me, sapere molte lingue diverse, perché consente la comunicazione con molte più persone. Sì, penso che sia molto importante anche perché riesci a capire le sfaccettature diverse e poi capisci anche, secondo me, da quello anche la cultura. Assolutamente sì, sicuramente importante anche perché senza le lingue straniere non si può viaggiare, non si può stare con gli altri, di altre nazioni e comunque sei vincolato nel mondo del lavoro. Anche se a me l'inglese non piace. Sì, perché comunque così quando vai in un nuovo posto ti senti a tuo agio piuttosto che io, ad esempio, so l'italiano, lo spagnolo e l'inglese. Li sto studiando tutti e tre e devo dire che quando mi capita di andare in Inghilterra o fare qualche viaggio mi sento molto a mio agio. Sì, penso sia importante sapere lingue straniere anche solo per scopo lavorativo in quanto al giorno d'oggi molti lavori si possono fare solo se si conoscono più lingue ma anche per conoscere nuovi posti, nuove culture, entrare in contatto con persone nuove e fare crearsi nuovi amici. Penso sia la cosa giusta da fare. E ora è il tuo turno. Voglio farti una domanda. Per te è importante studiare le lingue straniere? Fantastico! Allora è tutto per oggi e ci vediamo in una nuova puntata di Coffee Break Italian to go! Ciao ciao!